Conto alla rovescia per l'arrivo della carovana rosa in Abruzzo. Dopo le asperità di domenica pomeriggio con l'arrivo in cima al block house, lunedì, giorno di riposo in riva al mare, ripartenza martedì da Pescara. Tutto pronto in città per quanto riguarda la chiusura delle strade. La partenza è fissata per le ore 12.30 di martedì da piazza Salotto. Gli atleti passeranno per via Nicola Fabrizi, via Venezia, lungo fiume Paolucci, lungo mare Matteotti e Riviera, fino a raggiungere le naia di dove è fissato il chilometro zero che darà il via libera alla gara che si dirigerà verso l'arrivo di Iesi. A risentirne dunque la viabilità cittadina. L'ordinanza prevede il divieto di sosta e di fermata sul tratto di via Nicola Fabrizi, compreso tra Piazza della Rinascita e via Galilei, e sul tratto di via Le Regina Margherita, tra via De Amicis e Piazza della Rinascita, dalle 6 del 16 maggio alle ore 18 del giorno dopo. Idem sul tratto di via Regina Elena, tra Piazza della Rinascita e via Mazzini e in piazza Primo Maggio, dalle 5 alle 18 del 17 maggio. Su Corso Umberto, su parte dell'area di Risulta, dalla vecchia stazione ferroviaria, dalle 5 del 16 maggio fino alle 14 di martedì. Divieto di transito il 17 dalle 9 fino alle 14 anche sul ponte di collegamento tra l'asse attrezzato e Piazza Italia e sulle rampe d'ingresso e di uscita. Divieto di transito martedì dalle 9 alle 14 anche su via Solferino, via Zara, via della Riviera, via Berardinucci, via Ragazzi del 99, via Sabucchi, via Muzzi, via De Cesaris, via Roma, via Umbria, via Trieste, via Genova, via Firenze, via Campania, via Palermo, via Lucania, via Caduti dal Forte e Ponte Risorgimento. Per questo scuole secondarie di primo e secondo grado resteranno chiuse martedì, così come quelle di Borgomarino, Illuminati e Silone per quanto riguarda la primaria e l'infanzia. Le chiusure interesseranno anche la città di Montesilvano, dove dalla mezzanotte alle ore 15 è prevista l'istituzione del divieto di sosta su parte di via Aldomoro, dal confine con Pescara, fino a via Adige, sull'intera via Adige, su parte di Corso Umberto, da via Adige fino al confine con Città Sant'Angelo. Su queste arterie è previsto inoltre il divieto di transito dalle ore 9 alle ore 15. A Città Sant'Angelo resteranno chiuse la scuola Fabiani Primaria, la scuola Media Marina, scuola Infanzia Saline, Asilinido Privati di Marina e Istituto Spaventa. Una volta in provincia di Teramo, la carovana precederà esclusivamente sulla strada statale 16 fino a Martinsicuro. A Silvi, il sindaco Scordella ha comunicato la chiusura di tutte le scuole. A Roseto degli Abruzzi, scuole chiuse e sospensione del mercato settimanale di Piazza Olimpia. Ordinanza. Anche a Giulianova, il sindaco Costantini ha disposto la sospensione delle attività didattiche nelle scuole e negli asili nido per l'intera giornata di martedì. Le sospensioni delle lezioni e delle attività pomeridiane avranno solo due eccezioni. Si svolgeranno infatti regolarmente le attività dopo le 14.30 nel liceo Curie e quelle concorsuali programmate all'Istituto Crocetti Cerulli. Il provvedimento prevede ancora il divieto della circolazione stradale su tutto il tratto della statale 16, ovvero in via Turati e via Galilei, dalle 10.50 alle 14. Lungo le stesse strade è disposto il divieto di sosta e fermata dalle 7 alle 14. Sospensione delle attività didattiche di ogni ordine e grade anche a Tortoreto e divieti di sosta e transito lungo la strada statale 16 dalle 10.30 alle 14. Statale 16 e scuole chiuse anche ad Alba Adriatica e Tortoreto. L'Abruzzo dunque è pronto a tingersi di rosa e rispondere in massa come sempre. E pazienza se per un giorno ci saranno dei disagi, ma come cantava Paolo Belli, è un gran bel giro, è una grande festa, è musica. E' un gran bel giro, è un gran bel giro, è una grande festa, è musica.